Ciao a tutti, faccio questa velocissima breve diretta che vi invito come sempre a condividere, se lo credete, perché mi hanno chiamato degli amici e poi ho visto che mi hanno scritto tante persone, perché sono stato citato dal bellissimo programma televisivo Report, che ringrazio sempre per l'ottimo lavoro che fa di informazione libera e coraggiosa e che sostengo con tutte le mie forze. Report ha citato anche me, mettendo una mia fotografia, in quanto avrei ricevuto un finanziamento da una persona che è la moglie di un imprenditore e a sua volta un'imprenditrice, ed è la moglie di un imprenditore che sta lavorando alla ricerca di un vaccino. Io non ho visto tutta la puntata di Report, ho visto però il pezzettino nel quale viene pubblicata la mia foto e quindi voglio spiegarvi questo perché sto ricevendo molti messaggi su WhatsApp, qui su Facebook e ci tengo a chiarire perché sono una persona trasparente, sono sempre stato trasparente e personalmente io sarò sempre trasparente. In campagna elettorale, come sapete, per le europee ci sono le preferenze, è stata una campagna elettorale molto complessa, faticosa, dove peraltro molte regole del Movimento 5 Stelle non sono state rispettate, altri candidati hanno avuto endorsement spudorati da senatori, da deputati, da deputati regionali, che è cosa che è vietata dalle regole del Movimento, tutti contro di me. Ho avuto una campagna che mi sono fatto con molto orgoglio da solo e a un certo punto una imprenditrice mi ha proposto di darmi una mano, cioè di finanziare una parte, perché in campagna elettorale in che cosa spendi? Stampi dei facsimile, metti la benzina per andare in giro in macchina, dormi in giro perché stai sempre sui territori, almeno io l'ho fatta anche nei piccoli comuni della Sicilia e della Sardegna. E questa imprenditrice mi ha fatto questa proposta, io non la conoscevo, non l'ho mai vista, mi hanno detto che era vicina ai 5 Stelle, lei mi ha detto che era molto vicina ai 5 Stelle, che stimava molto Beppe Grillo, visto che c'era anche Beppe con quell'imprenditore in una foto, sempre su Report, e io ero indeciso se accettare o no, poi lei mi ha detto guarda che ho finanziato, non lei a dire la verità, un'altra persona mi ha detto che quella stessa persona aveva finanziato la campagna elettorale del 2018 del Movimento 5 Stelle. Siccome io da brava Iena sono un po' come Sant'Omaso, se non vedo non ci credo, ho chiesto se fosse vero. Ecco qua, lei mi ha mandato questo documento, che vi faccio vedere, ve lo faccio vedere bene perché se no lo vedete al contrario e non mi piace la cosa. Lo potete vedere, questo finanziamento si legge un po' male, l'autorizzazione concessa da Ezia Ferrucci 4.000 euro, la cifra è di 4.000 euro, Comitato elettorale del Movimento 5 Stelle, vedete qui, Comitato elettorale del Movimento 5 Stelle era data il 4 febbraio 2018, quindi questa persona aveva finanziato la campagna elettorale del Movimento nel 2018 e quindi di tutti gli eletti, quindi è vero che questa persona... Io ho accettato a questo punto, dopo aver visto questo documento, come sempre a me piace ragionare, carte alla mano, dopo aver visto che questa stessa persona aveva finanziato il Movimento ho detto, beh, sono tranquillo, se ha finanziato tutti gli altri può finanziare anche me, e quindi ho accettato questo finanziamento di 4.800 euro da questa stessa persona, e adesso poi mi è stato detto, questa persona era pure iscritta, mesi dopo, mi sono venuti a trovare quelli di Report al Parlamento Europeo, dicendomi che questa persona era anche iscritta alla lobby del tabacco, io onestamente non lo sapevo, non ho niente a che fare con il tabacco, odio il fumo, sono un antifumo, insomma non mi sono mai occupato tantomeno di tabacco, ma questa persona era un'imprenditrice, questo finanziamento lo ha dato al Movimento 5 Stelle nel 2018 in qualità di imprenditrice. Dunque ho accettato questo finanziamento, è regolare, è registrato, è pubblico, perché io ho fatto tutto come prevede la legge, e come prevedono le regole del Movimento, e l'ho fatto soltanto perché sapevo che questa stessa persona, con il suo contributo elettorale, ha contribuito a fare eleggere tutti, perché ricordo che nel 2018 alle politiche non si vota la preferenza, si mette solo il simbolo del Movimento, quindi tutti quelli che sono stati eletti nel Movimento nel 2018 hanno usufruito, visto che il voto è andato solo al simbolo, hanno usufruito del finanziamento dalla stessa persona che ha finanziato me. Vi dirò di più, siccome quell'intervista era stata un po' concitata perché stavamo per fare un'altra cosa in plenaria quel giorno che sono venuti i ragazzi di Report, io ho telefonato a Sigfrido Ranucci in persona, gli ho spiegato la situazione, gli ho detto se volete vengo in studio e ve la spiego ancora meglio, perché io ho accettato questo finanziamento, perché questa persona aveva già finanziato il Movimento. Lui mi ha detto guarda non ne so niente, eventualmente ci risentiamo, questa telefonata se volete ve la farò anche sentire, ma credo che non ci sia bisogno. Io ringrazio Report, anzi lo sostengo, trovo indegni gli attacchi che la Lega e altre forze politiche e a volte anche altri giornalisti hanno fatto a Report, quando si fa un lavoro di verità non bisogna avere nulla da nascondere, questo piccolo finanziamento che io ho ricevuto è pubblico, non ho motivo di nasconderlo perché non c'è niente di male, naturalmente non mi sono mai occupato, in Europa nemmeno si occupa di sanità, per cui non mi sono mai occupato né di vaccini né di tabacco, tanto meno, non sapevo manco che questa signora fosse socia di una società che fa parte della lobby del tabacco, non lo sapevo, non mi sono mai occupato né di tabacco né di nulla di quello che ha fatto questa signora, ho accettato il finanziamento solo perché lo hanno accettato tutti quelli che nel 2018 sono stati eletti grazie a una croce sul simbolo del Movimento 5 Stelle, deve essere chiaro, quindi se ho fatto qualcosa di sbagliato non credo assolutamente, l'hanno fatta anche tutti gli altri perché è la stessa persona, neanche la stessa società, la stessa persona che ha fatto lo stesso finanziamento. La cosa che un po' dispiace è che questa, attenzione, il finanziamento di 4.800 euro, quindi stiamo parlando di spicci, ho visto da report che il marito di questa persona, l'imprenditore, aveva finanziato la società di Matteo Renzi per 160.000 euro, mi sembra, insomma no, non si tratta di questi finanziamenti, e ripeto non è un finanziamento a me, ma è alla campagna elettorale, esattamente come questa, ve l'ho fatto leggere, campagna elettorale del 2018. Tutte le persone che nel 2018 sono state elette grazie al simbolo del Movimento hanno soffruito di questo finanziamento, esattamente come ne ho soffruito io personalmente, perché nelle europee ci sono i voti di preferenza, e ho ricevuto dei soldi anche da singoli attivisti che ho ringraziato allora e continuo a ringraziare, anche versamenti di 5 euro, pensate ho ricevuto da 10 euro, da 50 euro, da 40 euro, è molto più generoso, ma sotto i 5.000 euro, come prevede la legge, 4.800 euro, da questa stessa persona che ha finanziato il Movimento. Volevo dirvelo, mi dispiace molto che gli attacchi dopo questa trasmissione non vengono dal solito Salvini, da Berlusconi, da un nemico politico, ma da nostri deputati, da nostri portavoce. Questo è molto doloroso per me, anche perché alcuni di questi portavoce sono stati eletti anche grazie alla campagna elettorale pagata anche da questa stessa persona, come vi ho dimostrato con questo documento, che ho avuto prima, se no non avrei accettato questi soldi. Sono stato aiutato in campagna elettorale esattamente come è stato aiutato tutto il Movimento 5 Stelle nel 2018 dalla stessa persona. Volevo dirvelo, ci tenevo, perché io sono una persona trasparente, se serve chiarirò ulteriormente questa cosa, ma insomma, quello che vi dovevo dire ve l'ho detto, mi spiace un po' di vedere, sentire delle strumentalizzazioni fatte da persone che sono state elette col simbolo del Movimento, anche se non rispettano le regole del Movimento, e vi mando un abbraccio a tutti e vi do la buonanotte. Era necessario, a mio parere, fare questa breve diretta per spiegare questa vicenda. Grazie a Report, continuate così, spero anzi di poter andare a trovare Siegfriedo Ranucci, visto che siamo a Roma, e di parlargli, se vuole, anche di questa cosa, e di portargli la mia solidarietà per gli attacchi politici che ha ricevuto da altre forze politiche. Non ho niente da nascondere e non sarò mai arrabbiato con qualcuno che fa un buon giornalismo, come fa Report. Con quelli che fanno cattivo giornalismo sono sempre arrabbiato, ma Report non fa parte di quella categoria, almeno finora non lo ha mai fatto, non lo ha fatto neanche nei miei confronti. Mi avrebbe fatto piacere che avesse detto che tutto il Movimento 5 Stelle è stato finanziato, non soltanto io, però forse non lo sapevano, io gliel'avevo detto, ma evidentemente non se lo sono ricordato. Un abbraccio a tutti e buonanotte. Un abbraccio a tutti e buonanotte.